ansel e gretel c'era una volta un taglialegna che viveva nel bosco con i suoi due bambini ansel e gretel e la sua seconda moglie la miseria si era battuta sul paese e nonostante il padre lavorasse sodo non riusciva a mantenere la famiglia la matrigna convinse allora il povero uomo a liberarsi dai due bambini non possiamo più nutrirli daremo a ciascuno un pezzo di pane poi andremo nel bosco e li abbandoneremo ma ansel che aveva sentito tutto uscì di casa senza dire nulla e si riempì le tasche di piccoli sassolini bianchi poi ritornò a letto senza fare rumore l'indomani mattina si recarono tutti insieme nella foresta per cercare la legna lungo il cammino ansel lasciava cadere i sassolini quando furono arrivati nel folto del bosco il padre disse ai bambini mentre voi vi riposerete noi andremo a tagliare la legna invece non tornarono più quando i bambini si svegliarono ansel disse alla sorellina non piangere ritroveremo la strada grazie sassolini con lasciato cadere e così riuscirono a ritornare a casa il giorno dopo i genitori si spinsero ancora più lontano questa volta però ansel non aveva avuto modo di procurarsi sassolini li rimpiazzò con le briciole del pane che la mattina gli aveva dato i genitori come al solito si misero al lavoro e ansel e gretel si addormentarono su un letto di muschio quando si svegliarono si ritrovarono soli faceva freddo e la sera si avvicinava e quando cercarono di ritornare a casa le briciole erano scomparse le avevano mangiate tutte gli uccellini i bambini camminarono per tutta la notte poi tutto il giorno successivo finché videro una strana casetta fatta di zucchero filato canditi e biscotti erano così affamati che si precipitarono a mangiare quelle delizie chi rosicchia la mia casa disse una vocetta e una vecchina uscì dalla porta ascoltò le spiegazioni dei due bambini l'invitò a rimanere e li sistemò in due soffici lettini gretel e suo fratello credettero di essere in paradiso ma quando ansel si svegliò si ritrovò chiuso in una gabbia i poveri fratellini compresero allora che la vecchia era una malvagia strega essa infatti disse gretel vai a prendere dell'acqua e prepara il pranzo tuo fratello lo ingrasserò per bene e poi me lo mangerò ogni mattina la strega si avvicinava alla gabbia e chiedeva ad ansel di farle sentire un ditino per vedere se era ingrassato ma la strega ci vedeva poco e ansel le faceva sempre toccare un ossicino di pollo sei ancora troppo magro quando ingrasserai passarono così diversi giorni e la strega finì per spazientirsi decise quindi di cuocere il bambino e mangiarselo ugualmente disse allora gretel di preparare il forno e di controllare quando sarebbe stato abbastanza caldo come faccio a mettere la testa lì dentro piagnucolo gretel buona nulla l'apertura è abbastanza grandi guarda ma quando la strega si affacciò nel forno per controllare il calore gretel la spinse dentro al forno e ne chiuse la porta liberò poi il fratello e rimasero diversi giorni a mangiarsi la casetta frugando dappertutto i bambini trovarono anche un cofanetto pieno di monete d'oro con cui si riempirono le tasche poi se ne andarono per tornare alla loro casa camminarono a lungo fino ad arrivare sulle sponde di un fiume dove due cigni bianchi li aiutarono ad attraversare poi guidati da un gufo ritrovarono la loro casa il padre corse loro incontro piangendo e disse figli miei la vostra matrigna è morta tornate con me e vissero insieme felici e contenti come mai il taglialegna si decise ad abbandonare i bambini che cosa fece ansel per ritrovare la strada di casa che cosa fece gretel per liberarsi dalla strega che cosa fece gretel per i bambini che cosa fece gretel per i bambini che cosa fece